Stefania Betti, Gerardi, Cartoedite, Città di Castello, stiamo parlando di serie C femminile. Allora, due battute per chi non ti conosce. Ti sei laureata, sei avvocato, hai studiato in Lombardia e hai deciso di ritornare in Valtiberina e riprovare con la Gerardi. Esatto, sì, ho concluso il mio percorso, diciamo, professionale o quantomeno formativo e volevo trovare un nuovo progetto sul quale cimentarmi e il progetto della Gerardi mi è piaciuto fin da subito perché era un progetto ambizioso, costruito bene, quindi non ho avuto grandi dubbi, insomma, l'ho sposato volentieri. Società di prestigio, non scordiamoci mai quanto ha fatto questo sodalizio nel corso di questi anni. Parliamo del vostro campionato, la Serie C, un buon città di Castello che si sta confermando. C'è questa striscia positiva che oramai dura da qualche giornata e soprattutto ci sembra, correggimi se sbaglio, che con l'ingresso della Giorgi sia un po' cambiata questa squadra. Sì, l'ingresso di Silvia ci ha dato molto equilibrio, ci ha consentito innanzitutto di sfruttare un attacco al centro di livello, quindi sicuramente ci ha favorito e poi anche come personalità in campo è fondamentale per quanto mi riguarda e credo di parlare anche a nome delle altre ragazze. Quindi assolutamente il suo ingresso è stato fondamentale. Siamo state brave anche noi perché abbiamo trovato i nostri equilibri, cosa che non è facile perché comunque ci sono stati, è vero che la base era già sedimentata, però ci sono stati degli ingressi nuovi che ovviamente richiede la ricerca di nuovi equilibri e noi per il momento l'abbiamo trovato. Dobbiamo lavorare perché ancora dobbiamo superare certi punti fondamentali, però stiamo in crescita secondo me. A noi piace chiamarla l'amalgama, quella che serve per cercare di dare sempre il 101%. Non parliamo degli obiettivi, sappiamo che il Città di Castello punta in maniera chiara a un ingresso nei play-off da una posizione che conta. Quello che mi piace cercare di scoprire con te o meglio è sfatare un tabù. È vero che il vostro campionato inizia a maggio e adesso serve un po' per odiare il meccanismo? Allora, io non sono tanto d'accordo perché è vero che è importante arrivare tra le prime otto nei play-off, però è importante anche la posizione con la quale si arriva perché per quanto riguarda noi mantenere magari una quinta posizione perché la nostra classifica per quanto riguarda le prime quattro posizioni è abbastanza definita, abbastanza dico perché tra la quarta e noi ci sono nove punti che sono tanti, non irrecuperabili però sono tanti. Però per noi mantenere la quinta posizione ci consente poi nei play-off di scontrarci con la quarta, mentre ovviamente retroscedendo di posizione ti vai a scontrare con squadre attrezzatissime come sono quelle le prime tre sicuramente. E parlando di classifica, classifica alla mano, un punticino sotto a voi c'è Bastia, squadra ostica che non molla di un centimetro. Probabilmente è uno stimolo importante e questo vi fa capire che sarà un campionato difficile soprattutto portare in fondo questa quinta posizione. Assolutamente. Questa posizione, quindi il fatto che Bastia sia solo a meno uno da noi, ci dà una grande responsabilità. La responsabilità di non sbagliare le partite che dobbiamo assolutamente vincere. Questo significa con le posizioni, con le squadre che al momento si trovano sotto di noi. Io credo che possiamo spuntare qualche punto anche con quelle superiori perché l'abbiamo dimostrato. Per esempio Chiusi che adesso è terza, abbiamo perso 3 a 2 in casa, tra l'altro perso proprio 21 a 19 il quinto set. Quindi secondo me se giochiamo con l'intensità che abbiamo dimostrato e continuiamo a crescere senza troppi passi falsi, secondo me l'obiettivo è quello di mantenere il quinto posto, lo possiamo raggiungere e mantenere. Un'ultima domanda e una breve risposta. Le partite che contano, lo abbiamo detto, ce le ritroveremo da aprile in poi. Voglio fare una considerazione. Mi sembra che la squadra di coach Madao Diaz abbia capito i veri valori che porta in sé. Ci possono essere delle gare in cui tutto riesce bene, delle gare in cui questo riesce un po' meno. Quello che vediamo però è che date l'anima in tutte le partite e questo poi alla fine conta. Assolutamente sì. Ci stiamo impegnando tanto e i risultati stanno arrivando. L'unica cosa è continuità. Dobbiamo trovare la nostra continuità in palestra e in gioco, soprattutto durante le partite. Questo secondo me è la chiave per poter fare un buon campionato. Grazie.